Buongiorno a tutti, potremmo chiamare questi collegamenti il fitness al tempo del coronavirus. Un'iniziativa che FIF vuole dare per mantenere i contatti, per cercare di dare delle informazioni e soprattutto per cercare di capire come in realtà un modo corretto e salutare di affrontare la vita quotidiana che è tipico del mondo del fitness sia già un primo modo per affrontare un problema di questo virus ma di tutti i virus in genere. In modo particolare mi volevo soffermare su tutto quello che sono le sane abitudini di vita, il riposo, l'attività fisica e sembrerebbe che ci sia una prevalenza per un'attività fisica costante e continuativa e non di eccessiva intensità perché l'eccessiva intensità in questi casi potrebbe portare a una debilitazione del sistema immunitario. Per cui è logico che più abbiamo stressato il corpo e meno gli abbiamo dato tempo di recupero anche il sistema immunitario risente di questo tipo di approccio. Accanto a questo, logicamente, tutte le scelte salutari legate all'alimentazione quindi equilibrata soprattutto anche in frutta e verdura, tutti gli antiossidanti hanno un'azione in questo senso. In modo particolare nel mondo del fitness sono molto diffusi alcuni integratori che hanno dimostrato di avere un'efficacia a livello di sostegno del sistema immunitario e devo dire che molti sportivi adottano quell'uso di questi integratori che anche in questi giorni se ne è parlato, in testa metterei la vitamina C magari intesa non solo come acido ascorbico ma come gruppo C con i bioflavonoidi la vitamina D con un'importanza basilare sul sistema immunitario la glutamina, la glutamina aminoacido conosciuto da tempo con questa funzione e ci unirei tutti i complessi di fermenti lattici consideriamo che quando parliamo di probiotici perché fermenti lattici è un nome che non è adatto in realtà abbiamo un mondo estremamente vasto però certamente avere diversi ceppi anche variare questi ceppi ha un'azione positiva e di rinforzo sul sistema immunitario quindi un'attività fisica giusta con il dovuto riposo sostenuta magari da degli integratori come quelli che abbiamo appena detto e a livello imprescindibile l'uso di tutte quelle semplici regole igieniche che vanno da lavarsi le mani, le distanze di sicurezza la disinfezione delle superfici crea certamente un presupposto non si può parlare di immunità totale perché sarebbe stupido ma un presupposto per avere delle difese maggiori e delle minori possibilità di essere infettati da questo virus e comunque una maggiore possibilità di avere una capacità di reazione quindi seguiamo tutte le indicazioni che ci vengono date dalle autorità e continuiamo ad applicare soprattutto per chi viene dal mondo dello sport quelle che sono le pratiche positive, salutistiche legate proprio sia all'alimentazione che all'attività fisica ci sentiamo prossimamente, ciao!